Not this way Not this way Not this way Eeeh bello a tutti ragazzi c'è iFlex che vi parla e oggi siamo tornati in una nuova Bellars in compagnia di GhostDark e Gavo02 Trovate ovviamente i loro canali sotto in descrizione mi raccomando passateci e iscrivetevi Aspetta Giovanni lasciami un po' di diamanti anche a me Sì tranquillo te li lascio Attento che c'è uno proprio dall'altra parte un attimo che ti ammazzo io Ogo svatatevi di prima No Ok Giovanni mi lasci la roba Sì te li ho lasciati tranquillo Guarda quanti te l'hanno lasciati due c'è Eh vattene anche cari Sono troppi però Cioè pure troppo infatti Raga comunque le nove mappe sono in costruzione mi sono messi in creativi perché non funzionava un appunto un meccanismo Eh quindi le nove mappe sono in costruzione lì abbiamo messo Però ho ucciso white black però state attenti perché aveva l'arco Ho capito Se l'ha ancora Ho ucciso white black ma state attenti perché potrebbe avere l'arco Abbiamo capito Eh l'abbiamo capito E comunque Nella nuova mappa Petros praticamente abbiamo messo un hopper di sopra con una doppia cesta così i materiali non finiscono mai visto che in questa mappa finiscono molto spesso Cosa ne pensate voi che ci sono i materiali infiniti Raga mi raccomando un commentino Raga il vecchio pazzo è partito Mamma mia quanto forte E' partito in velocità Coris Cupido vecchio Prima abbiamo fatto una partita che Giovanni ovviamente non ha recato per rompirla E ho perso la clip finale Che praticamente io ero Avevo ucciso tutto il team Oh sta arrivando in base Sta arrivando in base Tutto il team giallo E lui aveva ucciso tutti i titoli blu Odio Non mi c'è No No Dai 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 Ok l'ho distrutto e letto al team rosso credo Si al team rosso Il lag di così sei more comunque giù là Eh che vuoi da me Che colpa mia Eh sei lag di così Eh Aspetta l'altro mezzo Si chiama Matteo Lopez Ok Ok Team 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 rosso abbiamo vinto Manca solamente il team blu Comunque raga se io vi espello Non dite tipo Perché espelli Poi non possono più entrare nel mondo No raga Il mondo quando viene riavviato Potete entrare tranquillamente Quindi adesso Vinciamo anche contro il team blu Stavo per ammazzare Stavo per ammazzare di nuovo Il dottor ciccio Dottor vendetta Dai 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 io ti vengo di dietro dai Prima le signore Chia ti giuro stavo per cadere Vengo di dietro No ma basta Non ti permette a fecciarli No ma basta tanto erarci Mi sei spessato anche per prenderla a fecci Occhio e un nabbo che sale le scale Ci riesce a salire le scale senza che cadi Di 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 Ti dice a salire le scale se cadi Senza che cadi Raga io comunque nella partita prima che Giovanni non ha recato Ho ucciso il team giallo che avevano le spade Pigeo non chiedetemi come Ma ma perché è riuscito a fortuna A fortuna è riuscito E' ovvio E' perché Ma dovevo però come Ah facciamo così guarda guarda Mettiamoci uno di qua Uno di là appena vengono al centro Li arriamo Vai 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 Oh io gli andiamo Aspetta aspetta Che troll di troll di squadra ragazzi Noi siamo full diamond La sono tipo a metà C'è nel senso Io sto laggando un po' Non vedo se Tecnicamente lo dico io Ok appena vengono al centro Le prendiamo in giro Dragon ball E' crashato Ok da preparati li lasciamo C'è Per forza Comunque raga ho notato che loro non hanno lo stiliano Raga se qualcuno di voi sta guardando il team Che magari il video Che magari nel team Blu Se non avete letto Vuol dire che li aveva qualcuno Del vostro team E l'ha persa Perché io ho controllato e non c'è più nel dispenser Quindi non so Magari qualcuno l'ha perso e caduto Involontariamente Non è colpa mia ecco Vabbè i diamanti lascio qui Ok vieni qua Siamo due full diamond Loro non hanno neanche bardato C'è un colpo E li distruggere Che ce l'hanno con l'arenaria Vieni 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 Prego prima le signore Prego si accomodi Prego A vista che sono gentile No Questo lago Questo lago Ok 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 li distrugga il letto Distrugga il letto Vai 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 ma che cazzo Oh S'hanno allaggato tutte e due Ok però apprezzo che hanno fatto la stradina Vabbè dai vabbè dai vabbè raga questa volta capisco che magari avete messo il legno Alla fine da diciamo che c'hanno ragione perché qualcuno ha perso l'ossidiana Quindi vabbè Ci può stare Ognuno è ancora viva Aspetta quanto ti chillo Non ci credo Ok I'm Dennis Ho perso Tutti il giorno adesso E' una manca No 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 Quindi una armata da che Eh non voglio chi la riusci Eh non voglio chi la riusci Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Abbiamo vinto Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Alla fine Più presente E niente Bella Ciao Ciao Grazie a tutti